Il mercato è in pieno movimento e una giovane promessa sta per entrare a far parte della rosa nerazzurra. Restate sintonizzati, perché questa notizia promette di scuotere il cuore di tutti i tifosi dell'Inter. Ma prima metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Il giovane difensore spagnolo Alex Perez, classe 2006, ha generato tanta attesa e insofferenza. Il desiderio di approdare all'Inter è così forte che Perez è determinato a garantire il suo passaggio al club italiano il prima possibile. Secondo le informazioni rivelate dall'estadio deportivo, Alex Perez ha già comunicato al Real Betis il suo attuale club, che, se non si raggiungerà un accordo tra le parti, sarà disposto a trascorrere un anno intero in panchina. Questo atteggiamento riflette la serietà con cui il giovane vede la possibilità di vestire la maglia dell'Inter. Perez è consapevole che una decisione del genere potrebbe avere un impatto sulla sua carriera nel breve termine, ma la sua attenzione è chiaramente rivolta al futuro al Milan. La possibilità di un passaggio all'Inter la prossima estate, senza costi di trasferimento, aggiunge uno strato di complessità e tensione questa negoziazione. Tuttavia, questa alternativa di aspettare un anno senza giocare sembra improbabile. L'Inter, sempre attenta alle opportunità di mercato, si dimostra disposta a chiudere presto la trattativa, evitando così che Perez perda un anno cruciale di crescita e visibilità sui campi europei. Questa determinazione del club nerazzurro non solo rafforza l'interesse per il giovane difensore, ma evidenzia anche la strategia dell'Inter di scommettere sui talenti più promettenti per il futuro della squadra. L'attesa per l'ufficializzazione del trasferimento ha lasciato i fan in ansia. Alex Perez è visto come un giocatore che può rafforzare ulteriormente la difesa dell'Inter, portando gioventù, vigore e potenziale da sviluppare sotto la guida di giocatori esperti e dello staff tecnico del club. E tu, tifoso nerazzurro, cosa ne pensi di questo possibile acquisto? Credi che Alex Perez possa essere un ottimo rinforzo per l'Inter? Lascia la tua opinione nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al canale per tutti gli aggiornamenti dalla squadra nerazzurra. Forza Inter sempre!